Perdonatemi mamma e papà ma è per una giusta causa Sono così maldestra Marinette, va tutto bene? Perfetto Tienimi questo Grazie Adrion Tieni Adrion, questo è il macaron con il tuo gusto preferito Ecco, ti lo indovinare Insomma, come potrai saperlo, giusto? Ma a volte le persone preferiscono certe cose invece di altre, quindi... Tieni Grazie Marinette Dupenchen, che stavi facendo con quel macaron? Non faceva parte del piano Katami, qualcosa non va Queste scarpe erano di mia nonna Questo sì che fa parte del piano Siediti, ti aiuto io Fase 2 Dupenchen Puoi farmi un autografo, Jagged? Katami? Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti.